La manutenzione per SafetyClean è innanzitutto un'opportunità, dove c'è manutenzione c'è lavaggio pezzi, dove c'è lavaggio pezzi c'è SafetyClean. Parallelamente è una necessità, noi forniamo attrezzature in comodato d'uso e la manutenzione è fondamentale per mantenerle efficienti, per avere piena soddisfazione del cliente. Quindi riassumendo è un'opportunità, è una necessità.